Signor Questore, oggi in Prima Nazionale è stato presentato lo spot sul bullismo realizzato dalla Questore di Nuoro che ancora una volta è in prima fila nella lotta a questo fenomeno. Sì, certamente non solo nella lotta a questo fenomeno, la Questore di Nuoro ha una tradizione ormai consolidata nelle iniziative sul sociale, quindi per lo più in favore dei giovani, per l'educazione della legalità e per diffondere regole del vivere civile. Il bullismo è un fenomeno che esiste nelle scuole e nelle comunità va analizzato, va sviscerato per poter porre delle difese avanzate e aiutare i ragazzi, tutti i ragazzi perché sia la vittima sia il bullo sono ragazzi che hanno bisogno di aiuto. Un passo importante di sensibilizzazione, il nostro obiettivo è quello di parlare di temi che riguardano la comunità in particolare oggi il bullismo, un tema peraltro affrontato da tanti anni ormai dalla Questura e dall'osservatorio che la Questura ha istituito. È importante questo spot perché vuole sensibilizzare adulti e giovani è un fenomeno che purtroppo è ancora sconosciuto. Si confonde il bullismo con altri episodi anche di criminalità che nulla hanno a che fare col bullismo. Vogliamo sfatare con questo spot il mito del bisogna punire solo il bullo invece il bullo non va solo punito o non va affatto punito, va solo aiutato e va aiutato così com'è la vittima.